Il giorno, anzi la sera prima di sabato, con le operazioni di peso svoltesi al Blue Matisse di Borgo a Mozzano, con tutti gli atleti che superano le operazioni di peso davanti ai giudici della federazione. Preambola la riunione, chiamasi evento, che si sarebbe svolta da lì a 24 ore circa. Domenica sera è l'ora del Wild Fight Event, evento di Muay Thai e K1, organizzato dalla palestra Jintonic Duo di Piano di Coreglia, Tim Sufredini, quasi mille di spettatori ad assistere a combattimenti in un cartellone quanto mai ricco e spettacolare. Tra gli atleti locali del team di Simone Sufredini segnaliamo la vittoria del campione italiano junior Matteo Marcelli, che batte con giudizio unanimo il marocchino El Ajoué Munir. Marcelli si è riconfermato campione regionale, a fine maggio difenderà il titolo tricolore a Rimini. Sconfitta di misura invece per Simone Fazzi di Valdottavo, atleta pro senior, che cede 2 a 1 di fronte al forte Coriaceo Giovanni Sandomenico. Ma sentiamo i due atleti ai nostri microfoni. È stato bello, c'era tanto pubblico. All'inizio è stato molto duro, era molto teso, però ce l'abbiamo fatta. L'avversario era bravo, è stato un bel match. Abbiamo lottato fino in fondo, però ho avuto la meglio. Sono contento, un saluto a tutti. Tutti i ragazzi che conosco, tutti i ragazzi della zona, amici miei, un po' da tutte le parti. E niente, l'ho perso, è andato così. A me diciamo che al secondo rano mi è un po' calato il fiato. E da lì in poi ho un po' accusato su quello, perché come tecnica non mi sembrava per nulla inferiore a me. Da aggiungere il successo di Marcello Bernardini, del Piagione, vice campione regionale, al quarto match in carriera che ha avuto la meglio su Lorenzo Mattani. Infine, tra i nomi dei vincitori degli altri match, spicca anche quello di Michela Galli, che si imposta su Aisce Amarun per K.O. e tecnico.